Coach Sun, un primo passo è stato compiuto con questa prima gara che comunque è andata bene? Sì, il risultato ci ha dato ragione, abbiamo vinto di 15 con qualche piccola difficoltà però mi pare niente di particolare. Io penso che l'aspetto nervoso un po' oggi abbia creato qualche piccola difficoltà però è anche normale quando si iniziano i playoff è normale che poi a livello emotivo bisogna anche essere allenati e abituarsi a questo tipo di sfida. Tutto bene comunque perché siamo riusciti a ruotare otto giocatori non spremendo nessuno quindi per oggi va bene così e ci prepariamo per la partita di giovedì cercando subito di andare a chiudere la pratica con un 2-0. Tre giorni infatti e si ritornerà in campo, basteranno questo poco tempo a disposizione per riprendere l'energia? Io penso di sì, anche se loro sono una squadra in ogni cosa ostica e ci creeranno sicuramente delle difficoltà a Marsala. Loro su quel campo poi riescono ad esprimersi anche con una maggiore energia, già sono una squadra abbastanza energica. Poi quando giocano in casa chiaramente raddoppiano questo aspetto ma noi dobbiamo andare a fare una partita importante, una partita sicuramente migliore rispetto a quella di oggi dove abbiamo sbagliato troppi canestri da sotto. Questo chiaramente nell'andamento della partita ci ha condizionato un po', abbiamo tirato un 36% da due punti, Fall ha avuto delle percentuali bassissime oggi vicino a canestro, però sono cose che possono capitare. Migliorando questo tipo di situazioni io penso che sarà un po' più facile affrontare la partita. È stata una partita intensa, abbiamo giocato di squadra, siamo stati bravi sia in attacco e in difesa, questa partita è stata frutto di due settimane di lavoro intenso sia a livello difensivo sia a livello tattico. Adesso siamo concentrati per la partita di giovedì e ancora dobbiamo preparare comunque la partita e sicuramente la tensione sarà bassa ma la concentrazione è alta. Senti, l'avversario è stato molto a cattiveria, segno che magari vi temeva maggiormente. Sì, diciamo che ha impostato la partita più sul livello fisico, noi siamo comunque stati bravi a contrastarli, abbiamo creato delle buone situazioni di attacco e niente. Con un po' di cattiveria in più sotto canestro forse il distacco sarebbe stato maggiore anche a livello di punti in questa gara. Sì, sicuramente abbiamo sbietto un po' sotto canestro ma comunque va bene così.